Un'altra allarme questa mattina, mercoledì 13 dicembre, intorno alle 9 presso la scuola primaria Giulio di San Giorgio. La dirigente scolastica ha accusato un malore e immediatamente si è pensato un'ulteriore intossicazione causata dal monossido di carbonio. La scuola è chiusa ma il personale stava lavorando in direzione didattica. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Verde Bessolese, i vigili del fuoco di Ivrea, l'NBCR, i carabinieri di San Giorgio e il vice sindaco Sergio Algosino. Delle rilievi effettuate all'interno dell'edificio il monossido di carbonio risultato assente. Il malore della dirigente scolastica è forse soltanto da attribuirsi la stanchezza e lo stress per quanto è avvenuto. Il personale è stato comunque trasportato in ospedale per controlli. Due sono stati portati all'ospedale di Cornier della medicalizzata di Castellamonte e quattro all'ospedale di Ivrea della Croce Verde Bessolese. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.